Abbiamo cambiato il vestito, i ruoli, ma non la maschera mai. Se ti metti la maschera, cosa dai alla gente? Non dai emozioni, non dai niente. Io sono Rosella Campanella. Io sono Caterina Campanella, mi chiamano Tuttirina. E insieme siamo le scala. Un anno mi venne l'idea di fare il can-can. Avevo tante ragazze che andavano in palestra e sapevano fare tutte queste cose. Allora dissi io, beh quest'anno faremo il can-can, Rosella preparami il vestito. Mica un vestito. Eravamo 30 ragazze e noi dovevamo imparare a farci la spaccata. La spaccata non l'ho mai fatta, però le gambe un po' le aprivo. Ma li stai apri le gambe? Grazie.